La strada è il tema, è la parola di quest'anno, è il nocciolo del nostro racconto ma noi non raccontiamo la strada in sé, raccontiamo la strada in noi, la strada che unisce. La parola strada, l'idea strada, la realtà della strada la puoi riassumere con un'altra parola che è semplicemente una lettera, la E, la E congiunzione, hanno la stessa funzione, la strada nella realtà e la lettera E come parola è nel discorso, congiungono, mettono insieme, uniscono ed è questo che noi proviamo a raccontare raccogliendo le storie delle persone che vanno, che usano queste strade che uniscono tanti ombilichi che sono le frazioni di Sori, unite dalle strade fanno tutte le frazioni insieme quella che è Sori. E noi questo andare, questa necessità di andare, di comunicazione, di condivisione, di unione, di comunità, proviamo a raccontarlo quest'anno in quattro tappe, in quattro soste, in quattro momenti, in quattro racconti delle strade che ci fanno come noi siamo comunità.